Io racconto sempre che forse la scena più bella è stata quando ho giocato contro Federer e Rauwimbledon che c'è il corridoio, in quel momento giocavo al campo 1 in cui lo fai insieme all'allenatore, quindi io ero accompagnato da Claudio Galoppini e lui da Edberg, mi sono girato verso il mio allenatore e gli ho detto il problema non è che oggi perdo da lui ma perderei anche dal suo allenatore perché comunque Edberg sul campo 1 sarebbe stato un bel problema. Poi devo dire che alla fine però quando entri in campo non ci pensi, io è successo, che era già successo il turno prima, vado a fare colazione a Roma, giocavo con Bellucci prima di giocare con Nadal che poi ho vinto il primo set, torno dalla colazione e trovo il mio allenatore che aveva fatto la borsa e se la stava portando via e mi fa vabbè dai, io comunque vengo al circolo con la borsa così se poi perdi o magari torno a casa a Livorno.